Nel luogo dove sbarcò Napoleone, sul molo Elba di Portoferraio, Francesco Costa, orgoglio dell'Elba, ci ha portato una medaglia, non è quella olimpica, purtroppo, anche perché possibilità non ce n'erano, ma è una medaglia di campione italiano. Complimenti innanzitutto, ma parliamo soprattutto dell'esperienza olimpica, un sogno che si è avverato. Sì, come dici te, è stata una bellissima emozione per me, già sbarcati all'aeroporto, mi ricordo già le televisioni italiane e la RAI che ci avevano subito fermato per fare le prime interviste, e ci hanno chiesto un po' delle prospettive, insomma, e arrivati là al villaggio è stato proprio un clima diverso da quello che si respira di solito in Coppa del Mondo, molto più affiatamento anche tra di noi, c'era bel tempo, c'era caldo e anche quello è stato, per me, dalla mia parte, insomma, una bellissima organizzazione e niente, sono davvero contentissimo dell'esperienza che ho vissuto. È stato praticamente due settimane di contatto con grandi atleti, con personaggi, quali sono gli episodi dei personaggi che ricordi più volentieri? Sì, sì, come dici te, ho avuto l'occasione di conoscere persone molto importanti che hanno fatto la storia dello sport, dall'atletica ho beccato Frankie Fredericks che adesso è commissario del CIO, ho beccato anche in pista un giorno ma non sono riuscito a fargli la foto con Otto Boldo, un altro due gentista del Trinità del Tobago e poi sì, campioni nostri del Bob, insomma, ragazzi come me che hanno avuto la fortuna e sono stati bravi a vincere una medaglia, insomma. Francesco Costa, la tua Olimpiade è cominciata in panchina purtroppo perché nel Bob A2 non sei stato inserito in squadra, però poi nel Bob A4 sono arrivate delle piccole soddisfazioni fra cui la diretta di una delle ultime mangi in cui sei stato proprio salutato come atleta proveniente dall'Isola del B. Sì, sì, effettivamente mi è dispiaciuto parecchio non fare il Bob A2 perché ci tenevo e stavo bene, insomma, mi sarebbe piaciuto fare la gara, però come alla fine quando sei lì pensi comunque sia a farne una, io ho puntato tutto sul Bob A4, penso di aver fatto il massimo personalmente e di aver fatto una buona Olimpiade per quanto riguarda la corsa che ho fatto e la gara. Non è andata come speravamo perché pensavamo di stare dentro i 10, però abbiamo avuto un po' di problemi gli ultimi giorni, poi sai un po' di stress, la prima esperienza non è sempre semplice da gestire. Poi come dicevi tu, io riguardandomi anche le gare in tv, la registrazione, ho sentito proprio una delle ultime due mangi che il telecronista di Sky ha detto Francesco Costa, il primo e unico atleta elbano a portare l'Isola d'Elba e il Portoferro alle Olimpiadi, è stata una bella emozione sentirlo. Anche noi elbani abbiamo imparato a seguire il Bob, la tecnica, le differenze, a conoscere i campioni, a sperare che succedesse quello che purtroppo non è successo, ma cosa hanno in più gli altri degli italiani in questo momento? Io penso principalmente i mezzi e le strutture che purtroppo adesso in Italia a noi mancano, da una pista ovviamente di ghiaccio dove poter fare gli allenamenti già a inizio stagione, già in estate, volendo i fortunati magari con le nazioni e le federazioni più importanti hanno la possibilità di allenarsi già sul ghiaccio a partire da maggio. Noi purtroppo non avendo alcuna pista in Italia dobbiamo ripiegare quasi a inizio stagione, ad ottobre, prima di poter scendere sul ghiaccio e questo per noi è un bel gap. Poi sì, anche l'affiatamento di squadra e purtroppo non siamo tanti a fare questo sport e cerchiamo di trarre il meglio di tutto. Il rovescio della medaglia, perché purtroppo non ci sono state solo cose belle, c'è stato anche un episodio spiacevole con un tuo collega che è incappato in un controllo anti-doping, una sanzione si attende non gravissima, cosa è successo? Sì, no, innanzitutto faccio un in bocca al lupo a William per quello che è successo e spero che la faccenda si concluda nel migliore dei modi. Siamo rimasti un po' tutti sorpresi e dispiaciuti per quello che è successo, anche perché da noi il nostro sport, almeno in Italia, non è malato in questo senso qua. Abbiamo fatto tanti controlli durante la stagione e siamo tutti usciti puliti, anche William, evidentemente ha fatto l'errore ingenuamente, penso di acquistare un integratore da un sito magari non sicuro, giusto, ed è stato sfortunato, anche perché io penso che William non l'abbia fatto in modo volontario, anzi. È un episodio che purtroppo dovrà ancora concludersi, perché dovrà essere spesso ancora giudizio, ma ce lo possiamo mettere tranquillamente alle spalle. Cosa ti rimane dell'Olimpia? Sì, no, sicuramente l'emozione di essere lì durante il scaldamento pre-gara, con tantissima gente a fare il tifo, l'attenzione, gli sguardi tra noi atleti che si incrociavano, quello mi è rimasto più di tutti. Anche nel Bobba 4, prima di partire, io che ero l'ultimo dovevo dare i comandi di partenza e poi di salita, alla fine è stato molto emozionante, una tensione diversa dal solito, insomma, bello. Tornato in Italia, o meglio trasferito in Austria, perché lì che si sono corsi i campionati italiani, è arrivata la medaglia che è al collo e questa è una bella soddisfazione. Sì, dai, alla fine ho finito la stagione diciamo bene, ci tenevo ai campionati italiani, sia per me che per l'arma stessa delle Fiamme Oro e sta una buona gara combattuta e gli altri equipaggi saranno comunque sia giocata. Io e il mio pilota Simone Bertazzo penso fin dalla prima mancia abbiamo fatto una buona discesa e abbiamo mantenuto la posizione, sono contento di questo primato, insomma, è il secondo campionato italiano che vinco. Il futuro di Francesco Costa, cosa ti aspetta, a parte una meritata vacanza a questo punto, all'Elba spero? Sì, sì, adesso penso, spero e fino a Pasqua di rimanere all'Elba, attendo una risposta dalla Ferrari riguardante alcuni test con il Boba 2, però per ora sto qua, mi godo l'Elba, spero che arrivi un po' di caldo e sì, mi rilasso un po', non troppo, spero, penso tra un pa' di settimane di prendere comunque sia a fare qualcosa per non stare troppo fermo. Bene, siamo alla conclusione di questa bella chiacchierata, l'Elba è orgogliosa di avere un suo atleta che è arrivato dove tu sei arrivato, probabilmente anche tu vorrai ringraziare qualcuno. Certo, sì, io ringrazio innanzitutto tutte le persone che mi hanno visto, hanno fatto il tifo per noi, sia Elbani che non Elbani, insomma tutta l'Italia che ci ha guardato, per il mio paese io ringrazio molto Roberto Marini perché so che ha scritto una lettera prima che io partissi per le Olimpiadi, complimentandosi con me, posso dire che sono a sostegno del suo gruppo, anche i giovani per Marini, e li faccio in bocca al lupo per le prossime elezioni comunali. Ringrazio ovviamente anche il sindaco Peria, se posso fare solo una nota critica, mi dispiace che l'assessore dello sport abbia dato poca importanza a questo evento, e niente, posso concludere solo con un appello, dico che vorrei cercare degli sponsor per la prossima stagione, che mi sostengono per la mia carriera, per la Coppa del Mondo che verrà. Noi non possiamo farti altro che un in bocca al lupo, e grazie per quello che hai fatto per il nome dell'Isola del Mondo. Grazie a voi, ciao, alla prossima. Grazie a voi.